Ragazzi buongiorno Ragazzi buon porno Ragazzi buon tonno Oggi voglio Oggi Voglio Ma la finiamo? Ma chi? E' Amal come sempre Amal vai fuori! Fumagalli che stai facendo? Eeeh stiro le camicie Non puoi fumare in classe! Minchia per una volta che non è una canna? Questa è una scuola! Posso andare a cacare o mi sparano? Ma chi? Dai Amal vieni dentro Anche sua moglie me lo dice sempre Siete una classe di merda! Rasciutto!